lo zoo di 105 presenta faccia a faccia il modo migliore per far incazzare qualcuno oggi nel faccia a faccia abbiamo usato la voce di ciao 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 c'è lei le corna eccolo eccolo ma è italiano almeno almeno a me merda a te a chi ti comando a te allora a me merda ti ringrazio di nuovo cominci un cominci un disgraziare una bestia oi ah te anche roti ci sarà fulmini e che la torpia di tua mamma figlio di una grande vacca la torpia di tua mamma va a fanculo delinquente devi crepare entro la fine del mese e ti viene un cancro